Squadra, numero 11 Alex Magamieri, in panchina, seguito Polfiere, Diego Pio Massimini, con numero 12, con numero 13 Alex Mammarelli, con numero 14 Gassiele Giancristopolo, con numero 15 Franco Di Fresco, con numero 16 Matteo Di Fresco e numero 17 Manuel Beratti, manca il diciottesimo perché si è sentito male Pellegrina Simone e in sostanza in panchina ci sono sei giocatori. Signore e signori alla prossima c'è la ripresa dell'entrata in campo per esempio, una partita importante per la Mirkus Castelfrentano, una partita importante perché ci fa andare ancora in atto in classifica, serie positive.